Cartier Tank Louis Cartier, il segnatempo che ha fatto la storia. Se c'è un orologio che può essere definito un'icona del lusso e dell'eleganza, questo è il Cartier Tank Louis Cartier. Questo modello, nato nel 1917 dalla geniale intuizione di Louis Cartier, figlio del fondatore della maison francese, si ispira alla forma dei carri armati della prima guerra mondiale, visti dall'alto. Il risultato è una cassa rettangolare o quadrata, con le anse integrate nel bracciale e una corona ornata da uno zaffiro cabochon. Il quadrante, di solito bianco o grigio, presenta le caratteristiche lancette a forma di gladio e i numeri romani. Il Cartier Tank Louis Cartier è stato il primo modello della collezione Tank, che nel corso degli anni si è arricchita di numerose varianti, come il Tank Frances, il Tank American, il Tank Anglaise e il Tank Solop, Il Cartier Tank Louis Cartier è stato indossato da molte personalità illustri del mondo della politica, dell'arte, dello spettacolo e dello sport. Il Cartier Tank Louis Cartier non è solo un orologio da polso, ma anche un oggetto d'arte e di cultura. Nel 2012, il Museum of Modern Art di New York ha esposto una selezione di orologi Cartier nella mostra Cartier Time Art, Mechanics of Passion, tra cui alcuni esemplari storici di Tank Louis Cartier. Inoltre, nel 2017, per celebrare il centenario della nascita del Tank, Cartier ha pubblicato un libro intitolato The Impossible Collection of Watches, The 100 Most Important Time Piece of the 20th Century, in cui il Tank Louis Cartier occupa un posto d'onore. Il Cartier Tank Louis Cartier è disponibile in diverse dimensioni e materiali, come oro giallo, rosa o bianco, platino o acciaio. Il movimento può essere meccanico a carica manuale o a quarzo.